Siamo dalla provincia di Colonia, da Solingen, della Germania, e si chiama Tony Sarchiello. Eccolo qua, di chiare origini italiane, ovviamente, di chiare origini italiane. Allora, Tony, tu vieni dalla Germania, posizionati pure il microfono, canti senza asta? No, con l'asta, con l'asta. Allora, la tua canzone si intitola Tu, virgola, musica per me. Un rifacimento di musica è, di Eras Armazzano, ovviamente no, però diciamo che il significato si capisce, si comprende il significato di questa canzone già dal titolo, quindi non ti chiedo niente. Vuoi salutare qualcuno in particolare che è venuto a sostenerti in questa avventura? È venuto qualche fan a seguirti? Sì, un pochino, un angolo da sopra. Eh, meno male, che qualcuno è arrivato dalla Germania. Ok, con Tu, musica per me, canta, numero 5, Tony Sarchiello. Grazie 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 Senza te No No Non ti lascerò Lascerò mai No No Non ti lascerò Lascerò mai Tu musica per me Sei un Brivido dentro Me Come un giardino colorato Atmosfere D'armonia Come fiume Di note E di fantasie Se mi lascio trasportare Dalla tua palia La 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 Comunque sia Comunque sia Comunque sia Ma Comunque sia Em Comunque sia Comunque sia